Grande partecipazione di autorità militari, civili e religiose alle celebrazioni dei 90 anni di attività dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sessione di Città di Castello. Preceduto dalla fanfara della Scuola Sottoufficiali Carabinieri di Firenze, dai gonfaloni del Comune di Città di Castello e dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, il corteo composto da rappresentanti dei vertici regionali dell'arma ha percorso il centro cittadino con dalla sede di in via Corso Vittorio Emanuele conduce fino a piazza Matteotti alloggiato Gildoni dove è stata deposta una corona di alloro per poi proseguire fino al monumento ai caduti dell'arma collocato a ridosso delle mura urbiche di fronte al piazzale Ferni dell'Ansa del Tevere illuminato per l'occasione dai colori rosso-blu del corpo grazie ad un circuito di lampade a led progettato da e nel sole realizzato dall'ufficio pubblica illuminazione del Comune Tifernate. Momento particolarmente toccante e significativo al pari della sosta dinanzi alla tarca che ricorda il gesto estremo ed eroico del colonnello Valerio Gildoni sottolineato dal tenente colonnello Antonio Iannone dal presidente dell'Associazione dei Carabinieri di Città di Castello Mario Menghi. Sono fra virgolette i nostri eroi, gente che ha dato la vita per la nostra libertà, per la nostra tranquillità, gente che ha usato più del loro dovere purtroppo ci hanno abbandonato. C'è un esempio per noi, cerchiamo di emularli no, ma però capiamo anche le famiglie che adesso soprattutto a Michele Fezzuoio gli manca il padre, ci stiamo intorno, l'arma gli sta dando tanto, tanto però manca sempre il babbo. Questa associazione è di Città di Castello che conta oltre 300 soci? Sì, siamo 300 ex carabinieri, amici, amici degli amici, simpatizzanti, è un'associazione aperta a tutti, siamo impegnati nel volontariato, siamo a Stata L'Aquila, la seconda quindicina di ottobre andremo a Norcia perché siamo stati assegnati, speriamo non ce ne sia bisogno, per la seconda quindicina di ottobre a presenziare nei luoghi del terremoto.